A distanza di cinque mesi dalla tragedia che ha colpito la loro famiglia, i nostri assistiti convivono ogni giorno con il vuoto incolmabile lasciato dalla madre e con l'incredulità per quanto accaduto a una donna amata e rispettata da tutti quelli che la conoscevano. Pierina era sempre pronta a dedicarsi agli altri senza riserve. Hanno deciso di condividere il loro Dolore, Giacomo, Chiara e Giuliano Saponi, i figli di Pierina Paganelli, la pensionata trovata senza vita nei garage del suo condominio di Rimini il 3 ottobre scorso. Sono trascorsi cinque mesi e l'assassino non ha ancora un nome né un volto. Al momento non ci sono indagati. Sembra che il materiale è sequestrato e le attività investigative finora condotte non siano stati sufficienti per individuare il presunto colpevole. In breve gli indizi raccolti finora sono deboli. Nel frattempo, tramite i loro avvocati, i tre figli di Pierina hanno scelto di esprimere il proprio dolore, un'esperienza vissuta lontano dai riflettori, come dichiarato nella nota diffusa dai loro rappresentanti legali. Non è passato un giorno in cui i familiari non si siano domandati chi possa aver compiuto un simile gesto e perché, ma hanno scelto di vivere il dolore in forma privata, per il rispetto dovuto a quella figura, Pierina, che è stata oggetto di dibattiti, chiacchiere, pettegolezzi, sproloqui. La difficile convivenza con questi pensieri è lenita da un'incrollabile fiducia nel lavoro della procura. È umano pretendere giustizia nel minor tempo possibile e provare frustrazione nel vedere il tempo che avanza. Ma ugualmente è logico comprendere che la gravità dei fatti e la complessità dell'indagine richiedano un tempo congruo. I quattro sospettati, che nelle ultime settimane hanno mostrato segni di nervosismo, desiderano ardentemente che il vero colpevole venga scoperto, così da poter chiudere definitivamente questo doloroso capitolo e guardare avanti. Ma chi sono questi sospettati? Ormai li conosciamo bene. Innanzitutto c'è la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, moglie di Giuliano Saponi. La coppia era già in crisi prima dell'omicidio, sebbene si fosse avvicinata di recente dopo che Giuliano era stato coinvolto in un grave incidente in bicicletta che lo aveva portato in coma. Proprio il giorno successivo alla scoperta del cadavere della madre nei garage, Giuliano doveva essere dimesso dall'ospedale il 4 ottobre. È stata Manuela stessa a fare la macabra scoperta. Giuliano è rimasto sconvolto e pochi giorni dopo ha ricevuto un'altra brutta notizia. La scoperta che sua moglie aveva una relazione con il vicino di casa, Luis da Silva, che è finito anche egli nella lista dei sospettati. Altri sospettati includono Loris Bianchi, fratello Manuela, che vive a Riccione ma quella sera era a cena dalla sorella. Il suo appartamento confina con quelli di Pierina e di Luis. Loris e Manuela si sono forniti un alibi a vicenda, dichiarando di essere stati a casa per tutta la sera, con la presenza della figlia minorenne di Manuela, che ha confermato le loro versioni. Valeria Bartolucci, moglie di Luis, e anche sotto i riflettori, ha dichiarato di aver trascorso la serata del 3 ottobre a guardare la televisione con suo marito, prima di andare in camera da letto poco prima delle 22, lasciando Luis da solo. L'omicidio è avvenuto pochi minuti dopo le 22. La pressione mediatica è alta, anche su questa coppia, che si è affidata a un nuovo avvocato, Riario Fabri, e alla criminologa Roberta Bruzzone. Nonostante i sospetti, il tradimento e gli intrecci, Luis e Valeria stanno lottando uniti per dimostrare la loro innocenza. Nel frattempo le indagini proseguono. Non è escluso che a breve gli inquirenti possano iscrivere almeno uno dei quattro sospettati nel registro degli indagati. Ma quale sarà il colpo di scena successivo? La risposta potrebbe essere dietro l'angolo.